Sì sì, è semplice, ho letto la storia del tuo festeggiamento che praticamente una volta dopo che hai segnato un gol hai avuto un problema alla schiena e quindi ti è venuta l'idea di questa statua, è vero? Oppure una leggenda diciamo? Una leggenda, e come ti è venuta l'idea di questo festeggiamento? Secondo me è il festeggiamento più bello che esista quando gioco a calcetta e segno sempre il tuo festeggiamento Grazie Io pure quando sono in macchina mi fanno... Ah casuale, però la leggenda è divertente Io l'ho letta su un titolo... Sì E fanno passare la leggenda Ok grazie